Buonasera, bentornati ad Abruzzo Village, trasmissione di informazione dalla provincia di Teramo. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, ha revocato il presidente della Teramo Ambiente, Pietro Bozzelli, per gravi motivazioni. Una decisione non semplice e anche dolorosa, scrive in una nota il primo cittadino, ma necessaria per il rilancio dell'azienda teramana. Il sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, con apposito atto, ha revocato l'ingegner Pietro Bozzelli dall'incarico di membro e presidente del Consiglio di amministrazione della società a Team Teramo Ambiente, la partecipata che si occupa dello smaltimento dei rifiuti urbani. La decisione fa appello ad alcune motivazioni espresse chiaramente nel decreto. Conflitto di interessi in transazioni con dipendenti licenziati, inadempienze nei rapporti societari, ricorso ingiustificato alle consulenze esterne legali, ma soprattutto scarsa trasparenza nei confronti degli organi di vigilanza. Per il primo cittadino di Teramo, questa decisione darà nuovo impulso alle attività della società di raccolta dei rifiuti, della quale il comune di Teramo detiene la maggioranza delle quote azionarie e di cui, secondo lo statuto, designa i membri del CDA. La decisione non semplice e anche dolorosa, come si legge nella nota del sindaco D'Alberto, giunge alla luce delle valutazioni che l'amministrazione comunale ha ritenuto di dover condurre nei mesi passati, all'essito delle quali appare improrogabile l'urgenza di individuare una nuova governance che sappia sviluppare una decisa attività di rilancio e riqualificazione, dando nuova efficacia all'operatività dell'azienda, certezze occupazionali per i dipendenti e chiarezza nella gestione tecnico-amministrativa. Nei prossimi giorni verrà pubblicato il nuovo avviso per la richiesta delle candidature e comunque l'amministrazione continuerà a garantire che l'attività della TEAM proceda regolarmente. Dopo il decreto di revoca del sindaco Gianguido D'Alberto nei confronti del presidente della Teramo Ambiente, Pietro Pozzelli, scende in campo anche il gruppo consigliare dei Cinque Stelle. I pentastellati al Comune di Teramo chiedono alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti di indagare sulle spese della TEAM. Il gruppo consigliare del Movimento Cinque Stelle al Comune di Teramo invierà alla Procura della Repubblica e alla Corte dei Conti il decreto firmato dal sindaco D'Alberto che revoca il presidente della Teramo Ambiente, Pietro Pozzelli. Il documento per i pentastellati rivelerebbe una situazione di assoluta illegittimità a danno dei cittadini e contribuenti teramani. Gli sprechi più evidenti per il Movimento Cinque Stelle sono quelli riguardanti i licenziamenti per giusta causa di due ingegneri dipendenti della TEAM risolti subito dopo con accordi transattivi per una spesa di oltre 343 mila euro. Dopo aver letto il decreto del sindaco con tanta attenzione e dopo aver visto anche gli atti che il sindaco cita appunto nel decreto abbiamo visto che sono saltate un po' alla luce delle spese che vogliamo siano approfondite dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica e sono le spese legali. Nella Teramo Ambiente ci sono stati dei licenziamenti, mi riferisco in modo particolare agli ultimi due nel 2017 e nel 2018 che si sono conclusi con delle transazioni e noi vorremmo che si indagasse su questo anche perché c'è un articolo del Codice Civile che stabilisce che anche le transazioni passino attraverso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. Dopo il decreto di revoca del Presidente Pozzelli il sindaco Gianguido D'Alberto guarda il futuro della Teramo Ambiente ed è già pronto ad indire un bando pubblico per la costituzione di una nuova governance che gestirà la partecipata. Dopo il decreto di revoca cosa farete? Andiamo avanti per garantire una nuova governance alla società in un momento delicato, forse un momento decisivo per il futuro della Teramo Ambiente. Gli uffici stanno già predisponendo l'avviso pubblico per l'individuazione della nuova figura del Presidente e si va avanti in una situazione difficilissima, molto complessa per il futuro dell'azienda. E' chiaro che anche la decisione di procedere purtroppo, ogni volta che c'è un'interruzione di un rapporto in modo traumatico c'è sempre una parte di spiacere che va rappresentata perché si tratta sempre di un rapporto istituzionale, però stiamo dimostrando, penso quotidianamente c'è la massima attenzione dell'amministrazione comunale, la volontà di risolvere definitivamente anche questo problema, l'interesse dei lavoratori, ma lo ripeto anche e soprattutto ai cittadini della Mani e finalmente dare alla Teramo Ambiente, come a tutte le altre partecipate, un giusto indirizzo che è quello di una società al servizio dei cittadini e non della politica. Il Prefetto Luigi Savina, oggi Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, è stato insignito dall'Università di Teramo dell'Onorificenza dell'Ordine al Merito Guido II degli Aprutini. La solenne cerimonia si è svolta nell'Aula Magna dell'Ateneo Teramano dove Savina si è laureato. L'Università di Teramo ha conferito al Prefetto Luigi Savina l'Onorificenza dell'Ordine al Merito dell'Ateneo Guido II degli Aprutini nel corso di una solenne cerimonia svoltasi nell'Aula Magna Benedetto Croce. È stato il Rettore Dino Mastrocola a prendere la parola per primo dopo l'ingresso del Corteo del Senato Accademico e a introdurre la lexio magistralis del Prefetto Savina. Chietino di nascita, Savina si è laureato all'Università di Teramo, ha diretto la Squadra Mobile della Questura di Palermo, il Centro Interprovinciale e Criminal Pol di Napoli e la Squadra Mobile della Questura di Milano. Oggi riveste il prestigioso ruolo di Vice Direttore Generale della Pubblica Sicurezza con funzioni vicarie. Attenzione massima all'Abruzzo, dichiara Savina, dove in tema di sicurezza la guardia non va mai abbassata. Oggi qui rivedrò il Procuratore Generale, ricordo, giovane sostituto a Pescara negli anni 90 quando c'è stato un primo tentativo di aggressione di natura mafiosa verso l'Abruzzo. La risposta però data all'autorità giudiziaria e da noi investigatori con una serie di provvedimenti di cattura per 416 bis, quindi l'attenzione c'è sempre stata massima. E oggi il riconoscimento da parte dell'Università di Teramo? Un riconoscimento che prendo io come Luigi Savina, con un grande onore perché 40 anni fa, il 16 marzo 1979, mi sono laureato in questa università, ma nel prendere questo riconoscimento, questa onoreficenza così come ogni altro che mi è stato dato, io ricordo tutti gli uomini che hanno lavorato con me perché per me è fondamentale il concetto e la squadra, tutti quanti assieme si riesce a fare un ottimo lavoro. Il primo ordine al merito dell'Università di Teramo risale al 2015 e fu assegnato in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico a Giovanni Legnini, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura. L'onoreficenza è stata in seguito conferita all'europarlamentare Paolo De Castro, a Emma Bonino e a Edith Brook. In piazza Martiri a Teramo sono stati esposti i resti dell'auto blindata fatta esplodere a Capaci nella strage che uccise il giudice Falcone e la sua scorta. Presente anche la vedova dell'agente Montinaro e centinaia di studenti in corteo. La quarto Savona 15, l'auto distrutta dall'esplosione di Capaci che fece saltare in aria il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e i tre agenti Antonio Montinaro, Rocco Di Cillo e Vito Schifani, è stata mostrata in piazza Martiri a Teramo come uno dei simboli più importanti di lotta alla mafia. Forze dell'ordine, autorità civili e religiose, gli studenti dell'Università di Teramo, delle scuole superiori e primarie del Teramano, attoniti davanti ad un ammasso di lamiere che suscita morte e terrore, ma soprattutto ribrezzo per la mafia. In prima fila, la vedova dell'agente Montinaro. Dopo 27 anni dalla strage di Capaci, Teramo, sempre con grande commozione, celebra questi eroi italiani, con la presenza di chi è stato protagonista con loro durante quella stagione di lotta, come il magistrato Leonardo Guarnotta. Che ricordo ha di questi due nostri grandi eroi? I ricordi sono tanti, ovviamente, che ritorno nella mente, ma il ricordo soprattutto è quello di due colleghi con i quali, e grazie ai quali, ho vissuto un'esperienza giudiziaria unica e irripetibile che mi ha arricchito sul piano professionale e segnato profondamente su quello umano, su quello personale. È stata un'avventura giudiziaria, veramente, in quegli anni particolari, fino agli anni 70, fino agli anni 80, primi anni 80, in cui si diceva che la mafia non esistesse, che fosse un'invenzione giornalistica, per distogliere l'attenzione dei lettori, chissà da quale altro più grave problema, o addirittura si è arrivato a dire da altri che fosse addirittura un espediente della democrazia cristiana per screditare il Partito Comunista o viceversa. L'iniziativa del Corteo dei Centopassi degli studenti e l'esposizione della teca che custodisce i resti della Fiat Croma blindata della scorta di Giovanni Falcone è stata curata dall'Associazione Falcone-Borsellino nell'ambito del premio Borsellino. Gli uomini passano, le idee restano. Questo è il messaggio. Le persone qui presenti, Leonardo Guarnotta, Luigi Savina, Tina Montinaro, ci insegnano che 600 kg di tritolo a Capaci non possono fermare la volontà degli uomini per un mondo più giusto. Questa presenza così massiccia oggi a Teramo ci ricorda che Giovanni Falcone, Paolo Borsellino e i mille che sono morti insieme a loro sono vivi, sono in mezzo a noi. Il loro messaggio, altre gambe le hanno raccolte e le portano avanti. Voi rappresentate la scuola di legalità, cioè la legalità di questo paese. E allora che messaggio volete dare a tutti? Sicuramente quello che dalle piccole cose si può cominciare a correggere i nostri atteggiamenti. E la scuola di legalità insegna proprio questo, è tutta una serie di percorsi che ci fa capire come anche nel nostro piccolo possiamo evitare e possiamo anche correggerci. Perché nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa e tante piccole cose poi fanno una grande cosa che si chiama legalità. Di grande impatto il discorso del sindaco di Teramo, Gian Guido D'Alberto, che nel ricordare anche l'anniversario dell'uccisione del giornalista Peppino Impastato ha salutato i giovani in piazza citando una sua famosa frase. La mafia è una montagna di merda e io lo voglio urlare. L'asla di Teramo sta esaminando una proposta di project financing per la realizzazione del nuovo ospedale a Piano Daccio che costerà 250 milioni di euro. Il progetto è stato presentato da un gruppo non abruzzese che si impegna a realizzarlo in meno di 4 anni. Qualcosa comincia a muoversi per la realizzazione del nuovo ospedale di Teramo. Dopo mesi durante i quali l'azienda sanitaria Teramana ha ricevuto semplici manifestazioni di interesse e è arrivata finalmente una proposta corposa e dettagliata per la costruzione del nuovo e grande nosocomio del capoluogo a Prutino. L'iniziativa proviene da un gruppo non abruzzese ed è un project financing. Il nuovo ospedale di Teramo è un'opera per un valore di circa 250 milioni di euro con 600 posti letto da realizzarsi in zona Piano Daccio. La normativa impone all'amministrazione di valutare nel termine di tre mesi l'eventuale fattibilità della proposta. Così l'Asla di Teramo ha avviato un'approfondita istruttoria per l'analisi del progetto e per l'esame del piano economico-finanziario particolarmente complesso. A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro interno coordinato dal direttore amministrativo Maurizio Di Giosia supportato da tecnici esterni che dovrà affrontare tutti gli aspetti giuridici, tecnici ed economici legati alla proposta. Se gli approfondimenti daranno esito positivo dopo tutti i controlli e confronti solo allora potrà essere avviata la vera e propria gara d'appalto. Nelle more dovrà essere perfezionato l'ite del finanziamento pubblico del nuovo nosocomio di Teramo che sebbene sancito in atti ufficiali non si è ancora definitivamente concluso. Una volta chiusa la gara d'appalto l'Asla di Teramo si dice convinta che l'opera potrà essere realizzata in meno di quattro anni. Le associazioni di categoria Api e Aniem di Teramo temono che presto la sede della Camera di Commercio Teramana sarà trasferita all'Aquila. Per le due associazioni si tratta di una grave perdita per il territorio e richiedono l'intervento urgente del sindaco d'Alberto. Le associazioni datoriali teramane Api e Aniem tornano a temere concretamente che la sede della Camera di Commercio di Teramo possa essere scippata dall'Aquila nel momento di una futura fusione. Eppure Teramo conta un numero più alto di aziende rispetto all'Aquila. Per il presidente dell'Associazione Piccole Imprese Alfonso Marcozzi l'accordo di accorpamento tra le due Camere di Commercio non doveva essere fatto. Si è trattato di un atto volontario voluto nel 2016 dall'attuale presidente Gloriano Lanciotti che per Marcozzi riveste questo ruolo illegittimamente. Dunque l'intero ITER lessivo per Teramo sarebbe anch'esso illegittimo. Lei non brinda la fusione? No assolutamente a fondo è una berzelletta non ci interessa brindare. Oramai la storia va avanti da diversi anni dopo la riunione di marzo di quest'anno si pensava che attraverso una comunicazione interlocutoria il tutto sarebbe risolto. Stiamo parlando della sede principale a Teramo della Camera di Commercio dopo la fusione volontaria tra Teramo e l'Aguela il presidente Lanciotti che secondo me è illegittimo per norma perché non può stare lì ha superato il terzo mandato e ci aveva rassicurato dicendo che l'Aguela era d'accordo sul fatto di fare questa nota interlocutoria per stoppare l'avanzamento della fusione. Ma secondo me questo non è vero non era vero allora perché era scontato che l'Aguela sicuramente non sarebbe tornato indietro su quella posizione e oggi infatti ce lo stanno confermando perché dai media si evince chiaramente che l'Aguela non è d'accordo sul fatto di tornare indietro. E adesso che bisogna fare? Abbiamo perso degli anni abbiamo perso qualche anno in attesa di quale evento non lo so forse in attesa di qualche poltrona molto probabilmente se l'azione fosse stata portata da qualche anno forse oggi avremmo un quadro diverso forse lo spiraglio è quello di dichiarare illegittimi gli atti proposti al presidente visto che non è legittimato ricoprire quel ruolo. Le associazioni Api e Aniem di Teramo chiedono poi l'intervento del sindaco di Teramo e del consiglio comunale al fine di sensibilizzare la regione Abruzzo a sospendere il percorso di accorpamento tra le camere di commercio di Teramo e l'Aquila anche in base alle recenti modifiche della legge. Ugo Fano medico dell'ospedale civile di Giulianova partirà per un'originale traversata in barca a vela su acqua dolce dall'Atlantico al mar Mediterraneo e poi fino a Parigi un progetto green ad emissioni zero e con uno scopo benefico. Dall'Oceano Atlantico fino a Parigi navigando su fiumi e canali d'acqua dolce artificiali con una piccola imbarcazione a vela di 6 metri munita di pannelli fotovoltaici ad emissioni zero un progetto green originale che ha come scopo non solo quello di proporre rotte alternative e modalità di navigazioni ecocompatibili ma anche quello di raccogliere fondi per l'associazione giuliese degli atleti di basket in carrozzella Micacci l'idea è del dottor Ugo Fano medico chirurgo all'ospedale civile di Giulianova che prima di ogni altra cosa è un uomo di mare durante la sua vita ha esplorato il mondo in barca a vela e oggi sceglie l'acqua dolce per uno scopo benefico è un progetto che prevede di trasportare una barca a vela con propulsione elettrica con pannelli fotovoltaici batterie a carica lenta per fare la traversata dall'oceano atlantico al mediterraneo a emissioni zero senza inquinare questo è il progetto quanto è grande questa barca? la barca è grande 6 metri lunga 6 metri però ha tutte le caratteristiche che sono indispensabili per noi che difficoltà presenta questo progetto? tecnicamente tantissime perché devo trovare dei pannelli fotovoltaici che abbiano una superficie adeguata per una barca di così piccole dimensioni il problema del peso dei pannelli fotovoltaici che è notevole e che mi spostano in alto il baricentro della barca quindi devo evitare che ci siano problemi di ribaltamento della stessa ci sono dei problemi del motore elettrico che deve sopportare una lunga navigazione di oltre 500 km con quale scopo? lo scopo ultimo e ambizioso è quello di riuscire a vendere questo progetto e cercare di trovare degli sponsor dei donatori al fine di dare un contributo alla polisportiva Micacci di Giulianova un'associazione di basket in carrozzine nella quale opero come medico volontario quando partirà? il primo settembre vado in pensione il 2 settembre parto per questo progetto e chi sarà il suo equipaggio? mia moglie Catrina naturalmente primavera prossima pensiamo di continuare il percorso attraverso il Rodano la Son e la Sen e arrivare a Parigi e allora buon viaggio grazie 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 di averci seguito vi lascio alla rubrica sulla formazione professionale curata da Luigi Di Teodoro responsabile formazione del gruppo Consorfon questa sera Luigi illustrerà le opportunità professionali che si possono cogliere diventando operatore socio-sanitario grazie e buona serata a tutti voi grazie a tutti